L'abbiamo detto a più riprese, questo è un governo che va avanti nella confusione più totale, nella confusione sia legislativa e sia politica. Pensate che lo scorso 3 febbraio il Consiglio dei Ministri ha presentato l'ennesima bozza Calderoli sull'autonomia differenziata. Siamo alla quinta proposta su un tema così delicato, così sensibile, un disegno di legge che rischia veramente di compromettere l'unità del Paese, rischia di frantumare l'unità del Paese, creando delle conseguenze nefaste sul futuro di milioni di cittadini che vivono fondamentalmente nelle regioni del Sud, perché creerebbe, così come impostata tale proposta, delle diseguaglianze tra i cittadini che vivono in regioni ricche del Nord, che hanno la possibilità già oggi di poter erogare servizi efficienti ai cittadini e regioni del Sud che già arrancano per una serie di difficoltà che vengono anche dal passato. È inutile nasconderci anche di cattive gestioni politiche del passato, ma di questa situazione non possono certamente pagare i cittadini, perché il riparto delle risorse in virtù di maggiori competenze che sarebbero attribuite alle regioni verrebbe pianificato secondo dei criteri che danneggerebbero, ripeto, le regioni che vivono già momenti di difficoltà, perché si farebbe riferimento a un criterio di spesa storica, quindi la spesa, il criterio fiscale, la storicità fiscale di ciascuna regione. Quindi le regioni che hanno una fiscalità più alta, anziché erogare e quindi spostare questi tributi allo Stato, in virtù di maggiori competenze su determinati materi, potrebbero trattenere quel quantum di fiscalità. Immaginerete già che questa situazione, sin dai nastri di partenza di un regionalismo differenziato su vari settori, porterebbe quindi alcune regioni a non avere le disponibilità economiche per poter andare avanti. A dispetto di altre che invece sono ricche, penso per esempio alle regioni del nord che sono la capitale dell'economia del paese, è inutile nasconderlo. Quindi il tutto, anche nella stessa proposta, non si prevede un fondo perequativo per garantire diritti sociali omogenei in tutto il paese, non si prevedono stanziamenti in tal senso e assolutamente un'altra cosa che manca è che non si capisce in che modo una regione, in che modalità una regione potrebbe avanzare maggiore autonomia su una determinata materia e soprattutto non si parla del fatto che le regioni che avanzerebbero tale richiesta dovrebbero stare quantomeno in regola con i conti. Quindi non si parla di tutto questo, si fa soltanto propaganda, i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, non vengono definiti anticipatamente ma anzi, così come hanno già fatto nella legge di bilancio a dicembre 2022, hanno fatto passare insomma una norma che esautora totalmente il Parlamento, rimettendo la definizione, la determinazione di questi LEP, non a una discussione parlamentare coinvolgendo tutte le commissioni preposte, cose che noi chiediamo a gran forza, così come accade oggi, insomma perché i LEP vengono definiti, ripeto, da una legge statale, ma la rimetterebbero a una fantomatica cabina di regia che si dovrebbe costituire a livello governativo monitorata dal Ministro Calderoli stesso e dal Consiglio dei Ministri. Quindi si sposterebbe una situazione di definizione così importante dei livelli delle prestazioni essenziali a un organismo esecutivo. Capirete bene che viene esautorato proprio tutto il discorso legato anche alla rappresentatività parlamentare che è fondamentale su una situazione così importante. Quindi gli interrogativi sono molteplici. Noi ovviamente stiamo facendo sensibilizzazione, stiamo facendo una battaglia istituzionale per arenare questa proposta che ci sembra veramente assurdo in un momento storico così difficile. Lo stiamo facendo in Parlamento a gran forza e lo stiamo facendo anche in Regione Campania, dove avvierò come Presidente della Quarta Commissione Speciale il prossimo 5 aprile un ciclo di audizioni per ascoltare i mondi, i settori che già vivono delle difficoltà in Campania, ma per capire quali sono le preoccupazioni di potenziali contraccolpi negativi di questa riforma, per esempio sul terzo settore, sul mondo scuola, sul mondo sanitario e lo faremo innanzitutto inaugurando questo ciclo di audizioni con la presenza di tecnici professori e il Presidente di Svimez che è Gian Nola del Mezzogiorno. Ci sarà il Professore Villone e tanti altri docenti della Federico II, Eugenio Mazzarella, e un parterre di studiosi costituzionalisti che verranno a spiegarci tecnicamente i limiti, i rischi della proposta Calderoli e quali sono i pericoli, anche i profili che cozzano con la Costituzione e quali ricadute nefaste può avere questa riforma qualora passasse di qui a breve. Vi informeremo naturalmente nei prossimi giorni, seguite naturalmente il mio canale YouTube, basta iscriversi per essere aggiornati su tutte le azioni che faremo sia dentro che fuori le istituzioni.